Poter fare un progetto, si deve essere accorto dopo sei mesi e se ne vuole andare. Dall'altra parte c'è l'amico Gasperini, che comunque ha ancora due anni di contratto, che evidentemente ha finito il suo corso, diciamo così, è arrivato a fine corsa, il rapporto con il Presidente si è praticamente increnato e credo che Geno abbia già una parola con la natura del Crotone. Quindi bisognerà vedere se in questo Turbio c'è anche una panchina per l'amico Gasperini, altrimenti credo che sia un po' improbabile. Però potrebbe... Ventura, Cagliari o no? A Cagliari, vogliono tutti mandare via il mio amico Rastelli, che peraltro ha vinto il campionato. Sono tutti i suoi amici. No, perché lo conosco, io non ho amici, devo dire, dico amico, vuole dire, perché è più conoscenza che amico, ma lo conosco ai tempi di Lucca e Massimo ha fatto bene. Non benissimo, eh. Magari c'è la panchina libera a Palermo. Io mi domando adesso, ma gli allenatori, ma dove? Il Palermo dovrebbe restare a Palermo. C'è la panchina del Verona che è libera, perché Del Neri ha detto che non rimane. Se sei una padella che c'è dentro l'acqua così, dopo un mese sei già prosciugata e sei l'imbalia. Se c'hai un padellone grosso così, ti mettono dentro e ti appogliano. A me di Rastelli avevano detto, io non lo seguivo personalmente, molto bene quando è iniziato. Mi sembrava... Al Catanzaro era? No. Ah, no, le prime è Lucca e prima... Non ha allenato Lucca lui. Credo che Catanzaro mi sembra bene proprio sul piano del gioco. Avellino abbastanza bene. Quest'anno doveva essere l'anno suo. Chiaro che vince il campionato, bravo, arriva secondo, non importa. La squadra era ampiamente superiore. Però capito, quello che dici, andiamo a vedere il Cagliari, no. Ma c'è la panchina della Lazio che io sinceramente... Rimane Simone? Prandelli, dicono. Veramente Prandelli si è proposto, la verità che si è proposta. Lui proprio si è proposto, è una grande società. Quindi si misce le mani a casa? Se io fossi il dirigente della Lazio e vedo giocare questa Lazio con Simone in panchina... Ci penso. Io ci penso, perché la squadra lo sta seguendo a Simone. Guarda quello che è successo, Brocchi, Milan, Simone, Lazio. È un approccio totalmente differente. No, ma ci stanno pensando se ne mettono. Anche se poi le partite vere le ha perse tutte e due, ma questo... Eh, ma però insomma... Sì, c'è da dire una cosa. L'esempio di un buon allenatore, sul quale l'Inter puntava molto, Stramaccioni, è un esempio. Stramaccioni splendido con la primavera, buono nell'approccio iniziale, poi però, sai, non è facile... Si è caduto. Si è perso anche a Udine. Si è perso lui, la squadra... Tanti infortuni, tanti infortuni. Ma si è perso anche a Udine, anche l'avventura di Udine non è stata positiva. Ma poi venendo qui, tu a Capodanno mandavi la squadra e fai arrivare tre giorni prima di giocare a Udine, perdi la partita. E quindi, secondo me... Paolo Sosa ha dato tre giorni di riposo dopo aver perso con la Roma, non è mai andato in ritiro nella partita con la Roma, è partito la mattina in treno per andare a Roma. Però se capisci... Ha vinto la Roma. Ma però se capisci che è quel momento di liberare la squadra, la devi liberare. Ma tu c'hai dieci giorni di vacanza, li fai stare fuori in Sud America, li fai tornare tre giorni prima della partita di Udine. Cioè, è vero che forse da noi italiani non l'avremmo mai fatto, ma lui è italiano, hai tutta gente di fuori. Però tu giochi il campionato italiano... Però sai la potenza dei giocatori argentini? Eh, però vedi che sono quelli che poi dopo l'ha messo in condizione di... Perché dopo sei andato in mano allo spogliatoio. Io dico che ci devi andare, ma quando decidi tu di andarci in mano allo spogliatoio... Fra questi cinque, secondo voi, il più sicuro di trovare una panca è? O di restare su una panca è? Mancini. Mancini. Uno? Poi? Mancini. Montella, se vuole ridere la Sampdoria, ci rimane. Se rimane il Presidente Berlusconi, però dire rimane, direi che... Se rimane il Presidente Berlusconi, quanto dà i Brocchi? Se rimane Berlusconi, dà il 100% Brocchi? Sì, certo, perde 8 a 0 col Bologna, 8 a 0 con la Roma, 8 a 0 nel coso e allora diventa difficile. Diciamo, alla regola, dignità magari... 80%? No, 60, 80 mi sembra tanto, anche perché... Il problema in questo momento... Mi sembrava già tanto il 10% a me, mi sembrava tanto il 10% con la logica di cose. Ma a due mesi può darsi che tu abbia ragione. No, non lo so, tu sei sicuramente più di me. Dissacrante come al solito. No, ma... Cioè, voglio dire, l'impatto che ha avuto questo giovane allenatore è stato devastante e negativo, perché tutti fanno quello che gli pare, non ti salutano chi vuole entrare. No, esci dal campo e te ne dicono di tutti con noi, ma sei appena arrivato, perlomeno. Ma voglio dire, ma che impatto può avere, che impressione può avere Berlusconi? Vabbè, poi giocherà pure come vuole Berlusconi, ma tu devi anche tenere conto di come si gestisce una squadra, uno spogliatoio. Dopo l'esperienza che dicevete prima, di un Mikhailovic che aveva tutte le caratteristiche per... E quindi in questo momento io non so bene chi è che potrebbe essere l'identikit di chi va a sedersi sulla panchina del Milan. Oggi un allenatore affermato o che sta arrivando a dei traguardi non accetta la panchina del Milan. Secondo me il fascino della panchina del Milan ci sembra. Non lo accetti più. Tu hai ragione di Francesco. Io non so se l'ho detto qui. Se lo dice, se lo dice Boban... Francesco l'ha detto dopo. Boban, Boban, Boban dice che... Tu non vado dove c'è confusione. Perché? No, ma non è confusione, dico... Perché voleva rinnovare. No, sono le prospettive. Boban dice che non avrebbe dovuto accettare. No, è la società che non... Di Brocchi? Di Brocchi, perché Boban dice che Brocchi non ha... Eh, l'ha detto lui. Perché non avrebbe dovuto accettare? No, infatti dico, lui doveva accettare. Ci mancherebbe, all'anno la primavera, ho bisogno di una vetrina, ma ci mancherebbe. E mi ha avviso la società che non avrebbe dovuto proporre in quel momento storico la panchina a Brocchi, che è totalmente differente. Carlo dice che il faccio del Milan esiste, però io mi metto nei piani di Montella. Beppe, però perdonami, qual è la differenza tra la proposta del Milan a Brocchi e quella di Lotito a Simone Inzaghi? Qual è la differenza? La differenza? Allora, la c'è, la differenza te la spiego, il pubblico contro la società, nessuno allo stadio, una squadra che è uscita in quella maniera, e se l'è giocata, ma se l'è giocata alla grande... Non è che qui la situazione sia molto diversa. No, ti dico un'altra cosa, non è così esasperata, ma là non identificano Simone con il Presidente. Qui identificano quest'uomo con il Presidente. Ma non i tifosi, i tifosi hanno capito che non è un problema di allenatori, anzi, anche Brocchi che è andato al posto di un allenatore molto stimato dai tifosi, però con Brocchi non c'è nessun tipo di acrimonia, lo stanno a... Però Carlo, escono dal campo con la Lazio e i giocatori stanno in panchina, incazzati o meno, qui escono i giocatori del Milan e ti mandano a quel paese. E' lì che capisci che c'è qualcosa che non va, perché là ha cominciato a essere determinante. Questo ragazzo qui, oggi la squadra non ce l'ha in mano, quell'altro poi potrà perdere le partite, però lo vedi nel linguaggio del corpo, nelle situazioni tattiche, quando richiama una persona, quando lo richiama se lo ascoltano, perché l'occhio della società, io credo che debba essere al di là di quello, questa è una società che dice che deve giocare una certa maniera, ma l'occhio della società è la gestione, degli uomini, delle situazioni, dei cambi... Beppe, ma se non avesse avuto in mano la squadra, la squadra avrebbe avuto questa reazione, lascia perdere l'avversario Frosino, quando è la reazione neanche con la formazione primavera, una reazione di una squadra che non voleva perdere. Ma guarda che questa è una squadra che... Oh, ma aspetta, io se ci guardiamo in faccia, diciamo signori, ma qui se usciamo dal campo in questa maniera non andiamo più a casa. No, però bisogna ricordare una cosa, credo, che se a 5 secondi dalla fine Balotelli mette dentro il gol del 4-3, è il florileggio di Brocchi, squadra che ha vinto il recupero tutto carattere come è Brocchi. Avremmo raccontato un film completamente diverso. Questa è la lettura giornalistica, non è la lettura tecnica, la lettura tecnica non si sposta dal 4-3. La lettura tecnica di una squadra in confusione, che non ha idee, che non riconosce un capo, è quella lettura tecnica che rimane al di là del 4-3. Poi cambiano, poi ritornano durante la settimana, forse cambiano nella testa i giocatori. Ma per questo che dico, una società non deve guardare il 4-3. La società deve guardare quello che sta succedendo dentro il campo, negli allenamenti, nei cambi, nelle dichiarazioni, negli sguardi. Quelle sono valutazioni che deve fare una società di calcio. Fiero, ti trova? Sì, sì, mi trovo completamente d'accordo. Ma soprattutto, ecco, io ho immaginato, guarda che io, dal di fuori, ma quando ho sentito 3-1 per il Frusinone, io ho detto, mi sono detto, ma questi stasera non escono da San Siro. O forse uscirebbero lo stesso tranquillamente, perché oramai, io mi ricordo situazioni che erano ben diverse rispetto ad adesso. Però io poi rivedo anche l'immagine, non avendo visto la presenza indietro, vedo il secondo gol che ha preso il Milan, ma una squadra di terza categoria, seconda categoria, con un centrocampista che sbaglia l'intervento, non legge bene la traiettoria, la fa carambolare all'indietro. Un difensore centrale che va tutto scordinato e prendi gol, è il terzo, scusate. Ma io mi domando, ma in campo, Brocchi, presidente, l'amministratore delegato, l'altro amministratore delegato, ok, ma queste robe qui in campo, tu giochi nel Milan. Ma i difensori del Frusinone o del Verona che retrocedono, non fanno quegli errori lì, poi prendono gol perché uno li dribbla o perché era uno colpire di testa. Ma una roba del genere, io non l'ho vista fare dai difensori del Carpi. Ma ditemi se non è vero. No, no, ma vedi che poi il 4-3 diventa un'altra cosa, perché quegli errori ci rimangono sempre. Non è che cancelli quegli errori, tu fai 4-3 ma tu cominci. Però anche in società, tu fai 4-3, ma anche in società che non ti passa il sassuolo stai tutto più tranquillo e valuti in un modo diverso quello che hai visto. No, però vedi, anche questo è giornalisticamente una notizia. La società è più tranquilla se vinci. No, ma la società non deve legarsi ai risultati, ma quella è la differenza tra le grandi società. Per quello che ti sto dicendo, lui ha un vantaggio Berlusconi. Signore, io stacco sempre a segni, gli altri devono inventarsi tante cose. Io stacco sempre a segni e quindi io pago e voi dovete stare tranquilli. E quindi la società si deve staccare. Oggi il tifoso, questa cosa non la vuoi sentire. Eh, lo so, ma... Sto dicendo, eh. Ma la mia città, però il mila è un vantaggio. Se tu dici e scrivi, ragazzi guardate che Presidente ha fatto meno 90, anche quest'anno l'ha messo fuori. Chi se ne frega. Ma hai ragione. Servo del padrone. Ma questo è il vantaggio. No, ma però vedi, questo è un vantaggio. Cioè, contestatemi, ditemi tutto quello che volete. Contestatemi tutto quello che volete. Però io vi tengo lontani. Io non è che perché 4-3 voi mi salutate. Io esco dal campo, scappo sul 3-2. Arrivo a casa, faccio 4-3, c'ho tutti i tifoi sotto casa che mi applaudono. Eh no. Io devo valutare che comunque sono stato sotto 3-1, che è un'annata particolare, che sono cinque anni che non vediamo il sole. Forse lo poteva fare quando viveva il Milan 24 ore al giorno, aveva più spazio, più tempo. Adesso non credo che sia in condizionato. Eh, non lo so, però si deve riappropriare questo modo. Dopo la pubblicità, alla ribalta Carlo Pelegati, che ci racconta tutte le news di società di oggi. Si risponde cosa si risponde alla Cine. Di oggi non tante, in generale. In generale, vediamo. Grazie.